Musica Oggi lunedì 7 maggio alle 16.50 circa a Rivoli nel parcheggio di una zona residenziale situata in via Alpignano 10. Un pensionato di 74 anni di Rivoli ha sparato alla moglie di 74 anni di Sant'Ambrogio e successivamente si è sparato in testa. La donna è morta sul colpo mentre l'uomo è stato trasportato nel soccorso all'ospedale CTO in condizioni disperate. L'arma era regolarmente detenuta. Non risultano denunce da parte della donna accertamente in corso. La donna è morta sul colpo mentre l'uomo è stata trasportata.